Santa Tecla, ma questa volta in piazza Giovanni Paolo II, andrà in scena la 46esima edizione del premio nazionale Garitta 16. I premi che saranno consegnati a illustre personalità nelle rispettive sezioni, uomini e società, medicina e ricerca, giornalismo, con un premio assegnato anche al miglior programma giornalistico votato dal pubblico. Sezione tecnologia e innovazione, pace e legalità e Garitta International Music Award, cinema, tv e spettacolo, premio alla carriera e infine le menzioni speciali con i premi assegnati per la sezione giornalismo, grandi eventi e international movie. Un'edizione che si conferma al passo con i tempi, di fatti il tema scelto per questa edizione è l'intelligenza artificiale. Tra i premiati infatti il presidente della commissione intelligenza per l'informazione padre Paolo Benanti, il direttore del di Castero della comunicazione e direzione tecnologica città del Vaticano, ingegnere Francesco Masci, il giornalista vaticanista del Tg1 Ignazio Ingrao, il magistrato e procuratore di Napoli Nicola Gratteri, l'agente spettacolo Lele Mora e il vice prefetto di Catania Sarita Giuffre.